Saranno consegnati giovedì prossimo 26 luglio i lavori di rifacimento del sedime stradale di via Erasmo Piaggio e Chietiscalo, un'arteria fondamentale per le tante aziende che su di esse insistono e che più volte hanno stimolato l'istituzione di intervenire, vista le precarie condizioni in cui è ridotto il manto stradale. L'intervento è stato finanziato dalla regione Abruzzo e gestito nell'iter da Consorzio Industriale e Arap, base d'asta di 442 mila euro e l'azienda giudicataria con un ribasso di quasi il 31% è stata la strade e asfalti di Raiano. I lavori saranno ultimati a cavallo di Ferragosto. Diciamo nelle prossime settimane i rilievi preliminari, la cantierizzazione e la sistemazione di 300 pozzetti che incidono sulla piattaforma stradale in maniera equivoca nel senso che con i ricarichi di tappeti che sono stati operati nel tempo si sono creati dei dislivelli che incidono molto sulla sicurezza del traffico e anche sul comfort di chi viaggia. Dopodiché fresatura e pavimentazione quasi in contemporaneo per cercare di evitare anche di lasciare la strada incompleta. Il lavoro sarà fatto a tratti, abbiamo diviso in tre tratti secondo gli incroci trasversali delle viabilità principali in maniera da non intercludere il traffico a coloro che anche nel periodo ferragostano dovessero avere necessità di accedere nelle aziende che sono allocate nelle strade laterali. Lavori che saranno completati appena prima di ferragosto o al massimo appena dopo? Sì io ritengo appena dopo perché poi anche per poter fare la segnaletica bisogna aspettare che l'asfalto diventi secco, duro altrimenti la vernice viene assorbita dall'asfalto e quindi si perde subito l'effetto della strada nuova che si individua proprio con la segnaletica. Provvederete e penserete anche ai interventi sulle vie laterali di accesso? Sì ecco ho chiesto al Presidente D'Alfonso di poter utilizzare anche i soldi del ribasso in maniera da fare un programma con il Comune di Chieti rispetto alle necessità anche di queste viabilità secondarie che avendo fatto un sopralluco qui intorno si rivelano piuttosto malmesse e quindi bisognerà assolutamente intervenire anche lì con questi soldi, con altre disponibilità e probabilmente anche con qualche risorsa che potrà essere messa in campo dal Comune. Grazie.